Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura. Siamo a Dolz Maden, a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania, per cercare fossili del giurassico risalenti a 180 milioni di anni fa. In questa cava si possono cercare fossili, si possono cercare soprattutto ammoniti. La differenza tra quello che accade in Germania e quello che accade in Italia è che qui, appunto, in Germania, i fossili si possono trattenere e si possono appunto portare a casa liberamente. Ma andiamo a cercare queste meraviglie del passato. Guardate, qui ci sono già due ammoniti. La particolarità di questa roccia sta nel fatto che, oltre al fatto che è di colore nero dovuto alla grande quantità di particelle organiche, sta nell'altra particolarità il fatto che queste conchiglie sono piritizzate. In effetti questa roccia è davvero molto ricca di pirite e quindi dà le conchiglie una particolare sembianza metallica sostanzialmente. Cosa hai trovato, Nostalgia? Abbiamo trovato, abbiamo trovato, che l'abbiamo visto, che è un po' di piaccia. Guarda che belle, tutte ammonite, guarda che spettacolo. Guardate, qui la roccia è fatta di grossi strati. si apre questa roccia come fosse un libro e all'interno di ogni strato è possibile trovare cose come queste. Anche questo episodio è terminato. Ci vediamo nella prossima avventura. Ciao!